valuto 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 è un'escalante? WTF? Oh Mox Chiamo con noi, certo? Beh... Non? Beh... 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 10 chips... 8... 8... 10 chips... 8... What? 10 chips... 8... Chips? What are these chips? Grid? Green and Raph oh ok i don't know what the fuck i think the lab is like south east wanna open some rune curves right and there we go and i'll see you then and i'll see you next time i'll see you next time ok 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 Grazie a tutti. 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 A moose o qualcosa? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 e tra l'energia e che adesso ci tra l'energia ok ok per piacere per piacere a qualcuno può venire ad aprire il bunker ce ne manca uno ma perchè ti è bruciato? ma perchè non me lo fa più? ma qualcuno l'ha sabotato ma chi l'ha sabotato? che cazzo eravate in treni addio forse perchè abbiamo prenduto male i tasti? riproviamo? si no 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 qua è rotto non me lo fa prendere no non lo fa fare non lo fa fare più come si riparano come si riparano? ok come si ris risparano? guardate iuks per r�MA Qua c'è pietra, ecco, a nord, a sinistra, però, eh, scusate, perché io ero andato per capirlo. Qualcuno di voi l'ha sabotato. Avete qualcuno che può riparare queste robe sabotate? Wow, 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 wow. Avete un altro bunker che si può aprire? Bella. 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 Oh, vi è qua. Chi sta gente? Chiamane un altro. Chiamane un altro. Così apriamo il bunker. Arrivo. Ragazzi, se avete il legno, io ho tre roccia. Tuttavia, possiamo fare dei frammenti. Aspetta, aspetta, aspetta. Sto morando di freddo. Sto morando di freddo. Va. Venite. possibilmente non si è buttato radio è blu servono pezzi meccanici ne ho due ho arrivato una aspetta, tieni se no io non ho spazio per il legno ma quanti ne avete? mi servono sette mi servono sette io ne ho due ok mi servono due legni se mi dai altri due legni ne faccio altre due e siamo sette quello che hai lasciato a terra già l'ho preso uno ne hai lasciato a terra è uno ne hai lasciato a terra no ho uno altri due chip lo trovati dai hai portato nella centrale qualcuno ha preso i circo una trappola? dove sei? mi ha sclosa una granata eh raga è questo il tizio con i punti derogativi qua esiliamo esiliamo io sono ferito procedo il tizio con i punti derogativi andiamo a mettere i voci andiamo andiamo esiliato ma che cazzo lo dobbiamo ammazzare oh raga ha una mano no vabbè pensiamo a costruire raga dobbiamo mettere i tutti ci servono i chip raga dov'era? wow 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 4 di 7 ma dov'è? io non la vedo più parla che ti vedo che ti senti ehi dove sei? sono morto sta ammazzando ancora oh il punti derogativo ai ai luce addosso luce addosso luce addosso lasciatelo perdere raga lasciatelo perdere ci faccio perdere il tempo quando lo vediamo lo ammazziamo posso staccheggiare il corpo per vedere qui io ho messo siamo agliati a 4 di 6 ne mancano 3 ok ora dobbiamo trovare come raga un'altra trappola raga dobbiamo è sempre lui con i punti derogativi è sempre quello io dovete fare attenzione lasciatelo stare lasciatelo stare entriamo dentro tanto è insiliato via 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 raga fa freddo entrate dentro ok raga abbiamo bisogno di mangiare ho due bacche cucinate ci le vuole a me servirebbe da mangiare in realtà te lo drogo e soprattutto due a te aspetta cucinate le bacche tieni sono già cucinate non sono venate tranquillo e poi ce n'è un'altra ok andata tempesta raga dobbiamo fare rai rai aumenti mi servono medici se volendo se ce l'hai tieni ne uno vai a me serve cibo raga raga quello mi ha messo letteralmente KO senaglia ho preso una senaglia occhio dove le pesa dove le pesa qua vieni fuori è qua fuori qua ok l'ho raccolta ok l'ho raccolta e buttata ok ah ok ragazzi hanno ristrutto la cosa porca a lei è sempre vuota cazzo è successo oddio però è stata mezzo serve un chip serve un chip ma io ho fatto un riparo eh no serve un chip per ripararlo vai a vedere bene carte 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 arrivo 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 è il bunker avete trovato dei bunker per riparare riparare ripetitore scusa scusa perché qualche buon'arma ha stavolto il bunker qua vicino è un pochino stavo picchiando l'alce che mi stava caricando ragazzi ragazzi devo mangiare aspettano subito avete visto andiamo a trovare un bunker sì andiamo ma ok mi garantisce che non siete sabotatori dobbiamo muoverci per cercare questo cazzo di bunker per avere è un po' di legna un po' di legna qua cerchiamo bunker venite arrivo dai vediamo ecco qua dai serve guardati qua nooo nooo noll noll help 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 medconore rieper medconore rieper sono loro sono loro medconore rieper no attenzione che a me no un po' di legna 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 No, no, non ho affare. No, no, non ho affare. Infatti è in Mad Condor. Ma sì, o il cazzo, sì, io ti ammazzo. È proprio lui, guarda. È in Mad Condor. È quest'altro zozzone, quest'altro zozzone è il Reaper. Ma scusami, ma sono tre allora? Perché come fanno ad essere tre? Io non ho studiato, però, perché stanno ancora dentro? Eh, non lo so. Fiatelo, fiatelo. Ha messo una mina, non uscire, ha messo una mina. Sto per morire. Sto per morire. Sto per morire. Sto per morire. Vai che scendi per i sei sei. Perché mi ti è ammazzato me? E vai. Abbiamo perso lo stesso. Se non andiamo avanti. Vabbè, se morire prima loro, però... No, perdiamo lo stesso. È volato qualcosa all'interno? L'ho visto, ma sai che... Mannaggia a te, managgia a te, managgia a te, managgia a te, riuscire. L'hai giocata bene, però, dai. Hai aperto il bunker e poi... Ah, che... Eh, sì. Mannaggia. Ma... L'idea di ammazzarti dentro è stata... Canale. La cosa più curva da fare, in realtà, perché ci ammazzavamo da fuori e... No, ma... Potevi scappare da fuori. Beh, beh, avete giocato da tutti a voi, Mad Conner Rapper. Mi sgancia un po' l'izzone. Qualcuno mi sgancia un po' l'izzone. Vabbè, ma... È quel tizio... È stata la cosa ideale. Vabbè, ma è quel tizio che ci ha fregato, perché... Da cretino ho cominciato ad uccidere gente. Però grazie a chi mi ha ascoltato, che mi avete sentito a Mad Conner Rapper. Ero stato... Eh, io ti ho sentito. Grazie, grazie. Timi troppo a un pollicione. Ma infatti... Ti ho messo al pollicione, Yannis. Uno. Perché mi hai sentito. Grazie. Beh, ragazzi, comunque... Sì, ma andiamo via questo, che... È uscito. Eh, meno male, non serva a niente, sto dicendo. È stata una bella partita, dai. Sì, sì, sì. Alex, in realtà non volevamo ammazzare. Cioè, nel senso, è troppo furbo. È un bersaglio... Che non volevamo ammazzare. Poi dopo ci siamo trovati e ti abbiamo ammazzato. Eh, però mi hanno sentito. Mi hanno sentito. Eh, beh, infatti non ci andrà bene. Ma ad una certa ci siamo preoccupati che tu avessi le... La radio. Eh... Eh, beh, beh. Vado a vedere l'obiettivo. Vengo con te. Da riparare. Mettiamo parte contro. Fatemi fare l'ultare cibo. La linea impazzisce il mio personaggio. Sì, sentite. Oh, Yannis, sentite. Sì, ti sentiamo. Forte e chiaro. Mi funziona. Oh, cazzo, lui. Bah, bah, bah. Eh, avete attivato il segnale? Sì, avete... Ma i soldi dove... I soldi, eh... Le pietre dove sono? Eh, papapà. Le pietre dove sono? Ehi. Sì, ho, che per l'ultima. Ehi. Sì, vai. Sì, sì. Eh, raga, servono... servono... servono tre rotelle, quattro frammenti elettronici e tre taniche. Ok. Dai, eh. Eh, raga, servono... Frammento elettronico, hai detto? Eh, servono tre rotelle, quattro frammenti elettronici e tre taniche. Ho la quest che mi dice di costruire del pasticcio, come si costruisce? Quanti frammenti? Eh, tre rotelle, quattro frammenti elettronici e elettronici. Ce n'è uno qua a terra, mi scappendo. Ho un tepino evidentemente. Ho un frammento elettronico. Oro. Ho fatto l'altro frammento elettronico. Eh, Mad, quanti frammenti elettronici hai? Ne ho uno, vorrei fare la benzina, ma la fa la... Ok, mantieni i tuoi frammenti elettronici, a te. Eh, fai la benzina, se devono due... Sì, prendi il frammento. Ah, dai, che trattacca, non lo puoi prendere. Ah, ok, ma non lo so. Venite ad aprire il bunker. Devi prendere i materiali, devi grassare, non devi farlo mai fare il frammento elettronico. Ci servono due persone per aprire il bunker, per piacere. Che serve? Un'altra persona per aprire. Ragazzi, un'altra persona! Ragazzi, qualcuno? Dai, grandi! Frammento elettronico e rotella. Conetti, rotella, droppo, anzi, lo porto io dopo. Due rotelle, tre frammenti elettronici, c'è un altro frammento elettronico qua, raga. Eh, ne ho uno io in mano. Dove? No, basta, ragazzi, ho tre frammenti elettronici, la penza. Mi senti? Ottimo. Io ti seguo con me. Due. Vieni. Due, facciamo prima la benzina, prima di mettere tutto. Oh, lo mettiamo tutto. Ho capito, capito. No, 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 teniamocelo, teniamolo. Eh, facciamo prima la panica. Camento. Camento. Ma la panica c'è? Ho messo dentro il frammento. Eh. Andiamo a cercare. Tre paniche. C'è un altro bunker qui. Un bunker. Una, un altro bunker. Un altro. Aprire bunker per piacere. Vieni? Arrivo, 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 arrivo. Ecco, mi stanno facendo. Non c'è, 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 non c'è. Ho trovato una tanica. Due taniche. Ho il... Ammenti. Ho due taniche. Ve le troppo qua. Mette le taniche. Ve le ho messe lì. Mette le taniche. Mette, 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 mette. Mancano solo le taniche. Le metto proprio, bo. Sì, sì, mancano solo due, quindi potete anche riparare se ce l'avete. Te manca uno. Manca uno, manca uno. Oh, ma non ne avete preso due. Ok, la riparo. Eh, sono due. È un'altra. È riparata. È riparata. Ok. Ok, ma? E li porto, e li porto da riparare. E li porto. Ho una mezza idea di dove potrebbe essere. Mi senti? Alex, vieni con me. Starto. Arrivo. Siamo sicuri che non sei di nuovo il nemico? Sì, assolutamente sicuro. Come me lo garantisci. Siamo sicuri che tu non lo sei. Grazie. Che cosa? Pier. Allora, siccome mi fido di te, Sì. Ti ho depato la radio. Wow. Eh. Eh, dovrebbe essere questo lì lì posto, no? Grandissimo, aspetta. Sì, sì, trovato, trovato. C'è qualcuno su questa radio? Sì. Per capo al rapporto. Io sto andando verso est, sud-est. Cosa c'è da riparare? Allora, servono un elettronico, uno meccanico e tre benze. Ragazzi, elettronici ce ne ho io. Elettronici ce ne ho io. Ok, anche io ce ne ho. Quindi tre, tre, tre servono. Facciamo le bacche. Faccio la benzina. Vado a controllare. Eh, ok, sì, anche io. Prendo un po' di bacche per fare la benzina. Mi dà una mano ad aprire il bunker? Eh, dove? Trovano qua. Dove? Ma quante ne crei che c'è qualcuno? Qua? Hai dato a qualcuno la radio? No, trovata. Vedete? Trovano? Gente? Ehi. Qua? Qua? Ripper? Qua, 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 Ripper, qua, qua. Lupi, 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 lupi. Ah, siete dove stanno i lupi? Aspetta. Aiuto ai lupi. Aia. Scusa, Alex. Scusa, Alex. Non c'è un problema. Ragazzi, mi stanno ammazzando. Ragazzi, mi stanno ammazzando. Non sai combattere. Non sai combattere i lupi. Ah, ok, pensavo così. Ci voleva accettare. Accettalo per me. Oh, preso al volo. Ragazzi, sono quasi... Apriamo qua, apriamo qua. Qua se riesce qualcosa di cibo. Vai, vai, apriamo. Arriviamo. Sono da un altro. Ma qualcuno è già andato a vedere... Ma qualcuno è già andato a vedere... Ma qualcuno è già andato a vedere... Cosa ha servito? Chip e... Spamone. Io ho una... Ci sono dei chip. E mettere tutto. Perché abbiamo... Andiamo, andiamo, andiamo. E c'è una cosa di benvene. Tutti è nel riporto. Gorka. Devo scendarmi. Ehi, vado alla baita. Eh, noi abbiamo... Due chip, tre frammenti. Io metto i miei. Ci sono due elettronici. Due meccanici e una benza. Dove siete? Ah, eccoci. Ok, sto arrivando io con la benza. Eccoci. Vai. Manca due benza e un elettronico. C'ho tutto io, ragazzi. Tutto io. Dai, è droppa. Metti, metti, metti. Via, via, via. Si va a chiamare il soccorso. Qualcuno ha la baita? Qualcuno ha la baita? Eh, andate. Andate pure a chiamare, va? Qualcuno ha la baita? Che io... Perché, ragazzi, questo è di fatto. Cazzo, io non ci muoio qua. Eh, ma ci muoio anche io. Eh, libera. Il capo ha disinnescato la radio. E lui è uno dei traditori. Ma cosa? Aspetta. Mad, a meno che non è morto. E se siamo? No, aspettate. No, no, la sua voce la sento. No, no, la sua voce la sento. No, no, la sua voce la sento. E non sono stato io. Oh, eravamo io e lui. E se sento la... Lelipotto scassarsi. Ragazzi, attenzione al capo. Lelipotto è riparato. Ma... Ok, l'elipotto no, è stato danneggiato. Lelipotto è stato danneggiato. Vero cosa serve? Riparato. Chiamato, chiamato, chiamato. Ho riparato l'elipotto. Non ho vita. Mi sta rovinando. Ho riparato l'elipotto. Ho riparato l'elipotto. Tutto l'elipotto. Ho riparato l'elipotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao amici. Amicici. Amici. Dai eh. Avevi ragione. Eeeh. Ho fatto l'MVP. dai chi vuole il mi fiacque mi fiacque ma come si mette datemi un mi fiacque dai come si fa non sappiamo come si fa premete il dito il dito fianco tutto al mio nome l'ho dato a Iane Serita ah ecco qua dove dove I'm sorry hai altri? sono cazzuti? si adesso arrivano eh mi dispiace una volta una volta che sono rosso una volta che sono rosso dai mi dispiace ma dovevo però vi ho lasciato vi ho lasciato andare nell'heliporto dai e non ho preso nessuno ho un'abilità a uscire dalla mia stanza bravo ero io che ho sabotato due volte eh alla fine ce ne siamo resi conto perché noi ti cercavamo sulla radio ma non ci rispondevi mai io in realtà premevo la radio eh non so io avevo la radio gialla eh sì perché te l'ho lasciata io sì ma non ci rispondevi mai quindi a un certo punto abbiamo detto nessuno si fida di me guarda nessuno si fida di me nessuno mi lascia le radio nemmeno io ho ho capito io premevo io premevo senza volere FN e non contro ecco perché non andava ma volevo rispondere no 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 è praticamente la prima volta che sono rosso e volevo sfruttare bene sta sta funzionalità però l'ultima volta è stato linciato quindi l'ultima volta che è stato rosso Yanis è stato linciato brutalmente aggiungerei met il condor ne mancano tre ne mancano tre vedi a palladiner barbi vada vedi vada vedi vada vedi vado a ripostore Ma lo è sempre in realtà No, non so, ho guardato la live E che dici se vado a sgamare, se tu... Ok Votate i metti condon 8 tanniche 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 Spaccavo tutte queste vetre online Veniamo Ah, pensavo dall'ultima volta che sei andato ai lavori postali Quello è stato 15 anni fa e non c'è che pensare Ok Allora Andiamo ad aprire Stavolta non sono... Scusami mi serviva una... Una piede Tieni Prendi l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, non ti preoccupare No Me la sono fregata da Ianes, non ti preoccupare Stavolta non sono impostore Sono tanniche Non ti crederò più Tanniche No, dai Seriamente Tanniche Tanniche Attenzione a non farti colpire Tanniche Tanniche Qualcuno viene ad aprire il bunker Sì, no, vado alla ricerca Qualcuno... ho trovato un bunker Se viene ad aprirlo Viene Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, ci sono io, ci sono io Ottimo Trovato, Ripper E da due e da tre Due E allora vado a mettere la tannica Se si è caduto bene, mi mancavo una sola Trovato una tannica Ho trovato componenti elezionici e... Prendili, prendili Questi, questi Che non fanno mai male Tanto tra poco ci stai girando Sì, infatti Guarda una mano Chi c'è qua? Io Ehi? Io Apri, apri, apri Apri, apri Cosa manca? Quante? C'è molto da mettere Ma dove sta il coso? Io non lo trovo, raga Ehm... Ho delle tanniche da mettere Ehm... Tieni anche la mia, va? Cosa? Tieni la tannica Te l'ho messa lì Eh, non ho più spazio Ah... Ho l'inventario pieno Ragazzi, ho due tanniche Io ne ho uno Eh... Due tanniche Io ne ho... tre Eh... E quindi possiamo farlo? Eh sì Eh no, due, uno, cinque, una, sei Ne servono otto Ah, cazzo, otto Eh... Sicuro che ho capito? Vediamo Non le vado a mettere, va Eh... Una messa Ehm... Beh... Ehm... Ehm... Eh... Conviene, se no se li rubano Solo... Solo quelle In che senso? Sì 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 No, non vi importavo Se c'è solo le paniche da me Eh sì Prendia, viva Vado a cercare le pacche Vado a cercare le pacche ho la quest per fare le rotelle hai la quest di fare le rotelle ho 5 botaniche ok bene bene dovremmo essere a forto con 5 dove stanno gli altri? 5 cercate bacche dove siete ragazzi ho un moneto di freddo e devo andare tutta la baita ok l'ho trovata la baita è qua ecco entra pure ok ma che dobbiamo fare? e li porto da riparare ok ma sappiamo dov'è? devo attivare il segnale aspetta no non c'è nessun segnale da attivare se l'è che sarebbe giù ecco 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 Grazie. Eh, abbiamo già tutto. Per l'eliporto. Comunque, elezioni e meccanici. Ok, uno e uno. Ok, andiamo, vieni con me. Samenti meccanici. Già fatto, già fatto, già fatto. Samenti meccanici. Non è che, magari, non è la nuova. Spanieri, mi stai vicino a casa? No, sono… mi sono riparato. Mi sentite? Potete aprire. no mi sto riparando vicino a una grotta cosa ti serve per riparare rimanete a controllare vado a chiamarlo avete riparato? vado a chiamare i soccorsi dove sono gli altri? sta medio libero con me e pure Ale io ho chiamato i soccorsi ok chi ha danneggiato l'heliporto? arrestato oh 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 qualcuno ha danneggiato l'heliporto qualcuno dietro di me oh 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 i limoni e le ha raggede 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 uccidete Alex e raggede Alex e raggede mi ha dato pure Alex no mi ha prego la gente si chiama la gente E' muoio E' raken, e' raken, e' raken, e' raken E' raken E' raken E' raken Occhio Occhio, e' raken Mannanza ste Siamo di freddo Chi è morto? Chi sono i morti? Oni prende l'identità A vedere Appena posso Ma i fantasmi li possono sentire a qualsiasi distanza? Sì, credo che sì Ma gli altri? Ho preso Il capo? Chi è il capo? Io No, è scappato No, F Eh, è finito Eh sì, ho poca energia Eh, vabbè No, ma lo sapevo Ma abbiamo pochissima energia Eeeh Il generatore, ma volete rimanere lì? Ho detto vado a chiamare i sopporti Eh no, no, ma infatti là sono rimasti E io là che l'ho ammazzato E infatti è grazie a Reaper che ha scoperto che io ho sabotato l'helipotto Dicevo Dicevo, è Reaper che ha scoperto che ho sabotato l'helipotto Eh Nettine? Sì Sì, sì, ti sentiamo Sto leggendo la chat che dicono I limoni, signora, i limoni I limoni I limoni, vieni Doviamo aspettare che entra qualcuno A quanto pare no Gianessi in postore No, no, Gianessi Ho visto il tour veramente Ok, allora Eeeh Ok, ti diamo a med È la regola della doppia negazione Centrale Questi poi mi dovranno spiegare Come fanno a spaccare la roccia a pugni, però vabbè Eeeh Cinque ingranaggi, cinque taniche Cosa? Cinque ingranaggi? Cinque ingranaggi, cinque taniche Eeeh Ok, io vado di ingranaggio Allora Eeeh Venite ad aprire il bunker Eeeh Com'è? Ok Andiamo Ok Oh, giusto, giusto Ho quattro taniche e un ingranaggio Io ho due ingranaggi e una tanica Perfetto Perfetto Abbiamo tutte le taniche Perfetto, abbiamo tutte le taniche Ma perché c'ho Ti si è clippato Ok Ok Benissimo Ok Andiamo Andiamo Ok Andiamo 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 I 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 vieni qua, vieni mi devi dire a colpito avete fatto il kit medico? no io si ok al bunker apriamolo qua arrivo? ottimo prendo un chip se non fa male ho tre chip e due danica è un chip 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 allora un po' chip chip dan 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 sicuramente l'heliporter chiederà chiederà 5 ingranaggi meccanici ne ho due ho due ingranaggi ne ho uno con le parti elettroniche apriamo questo apriamo questo aspettate e viale buono ne ho due io di ingranaggi uno ne ho alti tre io ne ho tre ce ne abbiamo tutti quanti ce ne abbiamo tutti oh l'ho freddo io ne ho quattro quattro in granaggi rimani qua rimani qua rimani qua vado a chiamare ok ma non ho per difendermi vado a chiamare i soccorsi abbiamo riparato quindi già riparato ok perché sei lì tu fai da difesa niente aspetta voi faccio la guardia al coso qua ok io devo andare in baita vorrei arrivare a casa che sto morendo di freddo ma non mi ricordo la strada devo andare in baita io eh anch'io non mi ricordo la strada siamo io su forti qua nel caso è stato rafferente nel caso è stato rafferente perché è rimasto lì e no no ok avete cibo? qualcuno di in casa ha cibo non ho cibo ma ho gli ingranaggi e due tante ok tanto se ci riscaldiamo facciamo una cibo andiamo? andiamo quando ha aperto la cassa e prima se ne sono andato ok centrale è sabotata se ne sono andato ce l'hai una cassa? no 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 ci devono dove era la cintale? sei tu sei tu avete sabotato la centrale bene vieni sarà stato medcondor è quello che è sparita e non ho visto più all'improvviso ok no è cibo medcondor è l'unico che stava nella base stava da solo appunto chi l'ha sabotata? medcondor per forza è stato medcondor? che faceva anche lo gnorri ma nessuno mi sente salite 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 eh non posso non salire niente eh vabbè raga arrivederci piano piano ci arrivo arrivi? ci arrivi? no non ce la faccio no niente medcondor ciao medcondor mori da solo medcondor 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 io medcondor ha sabotato no 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 ragazzi vi lasciamo a terra non fa niente dai è stato non piacere no 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 mannanda ciao 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 medcondor Pietro io vi sa dovevamo salire indirettamente dove hai lanciato l'anzico? che serve? no ho fatto abbiamo avuto lo stesso ovvio siamo scappati raga ho sbloccato dynamic 2 mi hai fatto meno punti MVP janese eh janese vedi che aveva ragione mad fra 3 quando sono io l'impostore davvero non mi dice che sei l'impostore ovvio è quella è la mia negazione riferi a janese di un esso il mi piace più casse aperte ma quante cassone è aperte più bacche raccolte io che avevo fatto mettetemi il mi piace e mi piace grazie mille ciao alex ciao per capo penso che ci salutiamo idem in caso poi come vi ritrovo è stato un piacere ciao 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 Grazie a tutti